È vero, la Namibia non parte da favorita, ma è anche vero che la Namibia durante l'anno difficilmente gioca partite così importanti, è difficile che possa incontrare squadre di livello di sei nazioni o quattro nazioni, quindi solo questo può far pensare quanto la squadra namibiana ci metterà impegno, quale orgoglio metterà in campo e quale coraggio metterà in campo, senza poi dimenticare la qualità tecnica che ha questa squadra, che sicuramente è difficile da intuire perché, come dicevo prima, non gioca molte partite ma sarà una dura giornata, speriamo di riuscire noi a fare bene il nostro lavoro come lo abbiamo preparato, ma con il massimo enorme rispetto per questa squadra namibiana che già altre volte ci ha messo in difficoltà. Con la Namibia abbiamo due sconfitte e una vittoria, io ero in panchina quel giorno in Namibia quando abbiamo vinto appunto la prima partita e già là è vero che erano tempi un po' diversi, era un rugby anche diverso ed era una squadra namibiana, devo dire la verità, anche diversa da questa, però ci siamo resi conti di quanto questi giocatori siano orgogliosi e di quanto siano duri, quindi domani ci aspettiamo questo, ci aspettiamo questa squadra con grande voglia di giocare al rugby, di imporsi fisicamente e questo noi dobbiamo riuscire il più possibile a diminuire le loro possibilità.